Il nostro principale problema è che noi abbiamo bisogno che il centro storico torni a essere bello. Ultimamente non è pulito come prima, ci sono molte scritte sui muri, ci sono le situazioni di degrado urbano, quindi il nostro primo impegno è riuscire a ridare la sua bellezza al centro storico, a tenere una città pulita e ordinata. Dobbiamo recuperare molto su questo. Dei problemi di sicurezza sono percezioni di insicurezza, se la panchina è rotta, se il parco è sporco, se la strada è poco illuminata. Come statistica non abbiamo molti casi da questo punto di vista, però nella percezione dei cittadini è molto sentito il tema, quindi bisogna lavorare per fare vivere i quartieri, non solo il centro storico, anche i quartieri di periferia, con attività in modo che siano vissuti anche negli orari serali e si diffonda questa sensazione di sicurezza che oggi è un po' compromessa. Tutto avviene in una parte della città e il resto della città di sera vive poco. Sì, a questo punto di vista possiamo fare molto per il risparmio energetico e quindi attraverso il piano urbanistico lavoriamo perché sia data efficienza energetica alle vecchie costruzioni attraverso processi di risparmio energetico. Sulle aree, noi le chiamiamo aree già cementificate, le ex aree ferroviarie, le ex caserme militari, le ex aree produttive, su quelle aree con nuovi progetti urbanistici, vogliamo contribuire anche ad avere delle abitazioni che producano energia pulita e siano belli dal punto di vista dell'architettura contemporanea. Puntiamo molto sul risparmio energetico, sulla riqualificazione ecologica e sui concorsi di architettura contemporanea perché per essere all'altezza di questo bellissimo centro storico, a noi piacerebbe che anche il resto della città fosse bello, anche se in modi diversi. Sono questi, rimettere a posto il centro storico, una città pulita, ordinata, bella da vedere, e avviare il piano urbanistico in modo da riqualificare oltre al centro storico quelle che chiamiamo periferie. Bologna può essere il centro dell'area metropolitana bolognese, quindi avere tanti centri e non avere più periferie. Bisogna cominciare in questo mandato a far andare avanti il piano urbanistico, che è già approvato, finalmente lo possiamo applicare. Grazie a te. Grazie a te.